Puntiamo sull'abbattimento dei lupi, l'assessore regionale Pan spiega il suo piano e ringrazia Rete Veneta. L'inquinamento da Pfas, gli attivisti bloccano i cancelli della Miteni, le immagini in shock dello sgombero. Nel 2025 l'alta velocità arriverà a Vicenza e il sindaco annuncia una rivoluzione per la città. Il capogruppo del PD di Vicenza si dimette, ruolo incompatibile con le primarie. Forza Italia si accoda alla battaglia di Rete Veneta per Palazzo Tiene, mozioni in provincia per farne un museo. La squadra amabile di Vicenza arresta un 61enne autore di un colpo a Lugano e era ricercato in tutta Europa. Schivato l'esonero di Mister Colombo, intanto il mancato pagamento dell'IVA può portare al fallimento del Vicenza Calcio. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio di Vicenza. E' sempre più scottante la questione lupo sulle nostre montagne. Oggi si è riunito il tavolo regionale di partecipazione e informazione per la gestione del lupo e dei grandi carnivori. L'assessore regionale Giuseppe Pane è stato chiamato a dare risposte. Ringrazio anche la vostra emittente anche se chiaramente per aver dato l'informazione corretta. Ringrazio la vostra emittente per aver dato un'informazione corretta. Oh, il riconoscimento a Rete Veneta arriva direttamente dall'assessore regionale Giuseppe Pane, proprio lo stesso che fino a qualche tempo fa accusava noi, che portavamo la voce dei sindaci, dei maigari, dei turisti, dei cittadini spaventati, di aver fatto disinformazione sul lupo. Ma come è possibile? Beh, per saperlo, riavvolgiamo il nastro. E torniamo a stamattina, quando a Padova i sindaci dei comuni montani, gli allevatori, gli ambientalisti, cacciatori e federturismo si sono seduti al tavolo regionale per la gestione del lupo, dove l'assessore veneto Giuseppe Pane, sotto un fuoco incrociato di domande, è stato chiamato a dare risposte. Il problema c'è, è un problema importante. Il problema c'è. Finalmente l'assessore riconosce che avevamo ragione. E ci fa piacere chiarire con lui, una volta per tutte, che quello dei lupi che uccidono il bestiame, conquistano il territorio sull'altopiano, è un problema gigante da solo, non siamo noi. Noi abbiamo portato la voce dei cittadini, dei maigari, degli allevatori. Sa, qui è chiaramente, il vostro ruolo è quello appunto di portare l'informazione corretta e io vi ringrazio, come vi ho ringraziato prima. Molti maigari ci avevano anche detto che erano pronti ad abbandonare le malghe, i pascoli, e questo sarebbe stato disastroso per l'economia. Sarà disastroso se questo avverrà l'anno prossimo? Dobbiamo assolutamente avere un piano di intervento immediato? Guardi, l'immediatezza, io rispondo per la mia, ma non certo per chiaramente il piano di gestione nazionale. Non si è perso un po' di tempo, Assessore? Guardi, la nostra sensazione è che sì, si è perso un po' di tempo. Il piano di gestione è un piano che non andava bene, molte regioni non hanno votato contrario e quindi deve essere sistemato. Dall'altra parte noi abbiamo fornito 200 recinti elettrici e più alti mesi di prevenzione. I recinti però hanno dimostrato di non essere efficaci. Non si risolve tutto con i recinti, però noi dobbiamo dimostrare alla comunità europea, dobbiamo dimostrare comunque nel piano di gestione, che mettiamo in atto tutti i sistemi di prevenzione possibili prima di arrivare alle deroghe, altrimenti non si può. Quindi lei dice che dobbiamo prima far vedere che facciamo i recinti, che facciamo questo, che facciamo quello, poi si può arrivare a chiedere la deroga. Esatto. E quindi l'abbattimento dei capi. Esattamente, è anche questo. Ci fa piacere che abbia riconosciuto il valore dell'informazione che abbiamo fatto noi di Rete Veneta e quindi insomma noi torneremo a chiederle conto. Assessore, perché è lei il punto di riferimento in Veneto, quindi è lei che ci deve mettere la faccia, siamo felici che ce la metta, torneremo da lei. Grazie. Arrivederci. Torniamo sul caso dell'inquinamento da Pfas e andiamo a Trissino. Sono stati bloccati questa mattina i cancelli della Miteni. Gli attivisti infatti hanno chiesto il sequestro dell'azienda, ma sono stati fatti sgomberare dalla polizia. È iniziata con una manifestazione pacifica. La battaglia contro l'inquinamento da Pfas si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sollevato di peso gli attivisti dei centri sociali che questa mattina vestiti di tuta bianca e sul volto maschere di animali a rischio estinzione hanno bloccato l'ingresso della Miteni di Trissino. Un'ottantina di persone che hanno impedito l'accesso ai dipendenti e mezzi chiedendo l'immediato sequestro dell'impianto ritenuto il principale responsabile dell'inquinamento della falda. Siamo qui oggi per difendere la nostra salute, per difendere la nostra vita, per difendere il nostro territorio. La loro una resistenza passiva abbiamo visto e oltre alla chiusura della Miteni chiesto che la fabbrica si assuma l'intero onere della completa bonifica dei terreni e che i dipendenti dell'azienda di Trissino vengano salvaguardati e ricollocati nel processo di bonifica dell'impianto. A seguito di questa manifestazione oggi Miteni ha inviato un comunicato nel quale ha detto che l'unico risultato della protesta è stato semplicemente ritardare il proseguimento delle attività di bonifica in corso. L'azienda di Trissino inoltre fa sapere la dirigenza, sta depurando la falda e non produce più FAS e FOA da anni. Ed ora cambiamo decisamente argomento e con il prossimo servizio parliamo di alta velocità. 805 milioni di euro il 2025, la data dell'arrivo dell'alta velocità a Vicenza e della rivoluzione per la mobilità cittadina che prevedrà una grande opera di riqualificazione che andrà a interessare la città e la linea ferroviaria della tratta Milano-Venezia con il consolidamento dei percorsi su rotaia già esistenti. Deve essere una stazione integrata con il territorio che mette al centro dell'attenzione chi prende il treno, il viaggiatore però in un rapporto con la città che sia positivo quindi non un luogo di degrado come spesso viene percepito o un luogo stile ma un luogo che interagisce con la città. Insomma una Vicenza connessa al sistema internazionale dei grandi trasporti di passeggeri e merci ma non solo. Vicenza come capoluogo di una provincia di oltre 800.000 abitanti non solo con una stazione facilmente accessibile rispetto a quello che c'è ma addirittura una città nella quale ci si muoverà all'interno della città sempre più in elettrico, sempre più anche con la bicicletta. Quindi un paradosso, da una parte la possibilità di viaggiare in Europa rapidamente e dall'altra avere una qualità della vita in città migliore. C'è chi ha definito questa un'opera faraonica una propaganda elettorale? Perché non capiscono niente e viva ovviamente la dialettica ma su queste cose ci misureremo e come. Si occupa invece di autonomia anche questa settimana il tema del nostro Tg Linea Aperta. Ancora una volta vi chiediamo di rispondere all'indirizzo e-mail che vedete in sovraimpressione. Ed ora la politica, si avvicinano le primarie del centro-sinistra e Giacomo Possamai si dimette intanto da capogruppo del PD Cittadino. Mi dimetto da capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Vicenza. Un passo indietro per farne uno avanti, verso le primarie per l'esattezza. Giacomo Possamai ha fatto l'annuncio questa mattina, una notizia che in realtà non ha stupito gli addetti ai lavori, alla base incompatibilità di ruoli. Il capogruppo ha un ruolo di garanzia e quindi il fatto che io mi sia candidato non consente più questo. Dopodiché non mi dimetterò ovviamente da consigliere perché lo devo alle tantissime persone che mi hanno eletto cinque anni fa. Insomma siamo sempre più in odore di amministrative. Possamai intende concentrarsi completamente sull'appuntamento delle prossime primarie. Ormai siamo agli sgoccioli anche con la raccolta delle firme necessarie alla candidatura. Supereremo quota 2.000 firme, è stata un'adesione entusiastica e straordinaria da parte delle persone e quindi siamo molto soddisfatti e questo ci dà la forza di proseguire al meglio questa campagna elettorale. Non c'è nessun rammarico per questa decisione? Beh, è una scelta ovviamente difficile, una scelta sofferta perché il ruolo di capogruppo è stato bello e pieno di soddisfazioni in questi anni, mi ha consigliato di crescere e di imparare moltissimo, ho partecipato alle decisioni più importanti di questa città in questi cinque anni. Dal PD a Forza Italia che sceglie invece di appoggiare la battaglia di Rete Veneta per Palazzo Tiene, guardate. Forza Italia si accoda alla nostra proposta per Palazzo Tiene. Con una mozione in consiglio provinciale il partito di centrodestra chiede che l'amministrazione tramite il suo presidente Achille Variati si impegna a trasformare l'antica sede di BPV e le opere d'arte che contiene in Museo Nazionale, richiedendo al governo tramite il ministro dei beni culturali, che lo Stato avocchi a sé la piena proprietà del palazzo, evitando così la liquidazione coatta. Ricordiamo che Achille Variati aveva già sposato la nostra proposta, così come tutte le forze politiche, quindi ci aspettiamo che la mozione passi. Ovviamente continuiamo a monitorare la situazione. E a Vicenza, siamo alla cronaca, è stato arrestato un ricercato internazionale. Ricercato internazionale, maxi operazione della mobile di Vicenza. Gli agenti hanno arrestato un 61enne, autore di un furto a Lugano in Svizzera. In manette Angelo Carbone, originario di Benevento con diversi precedenti, nella città elvetica si occupava di cambi monetari. Qui ha rubato denaro e documenti prelevati da tre cassette di sicurezza. Gli inquirenti, dopo un'informativa dai colleghi svizzeri, hanno individuato l'autore del carbone e a seguito di appostamenti l'hanno incastrato dopo che aveva trascorso la notte da una parente. Abbiamo proceduto ad arrestare la persona sulla base di una richiesta di mandato di arresto europeo spiccata dall'autorità giudiziaria elvetica nell'immediatezza, vista la gravità del fatto. Ma adesso saranno sviluppate una serie di approfondimenti investigativi con la Polizia Svizzera per verificare se alla base di questa vicenda criminale ci sia qualcosa di più complesso, soprattutto in termini di riciclaggio, considerando anche che il curriculum criminale della persona arrestata prevede una condanna nel 2004 in via definitiva per riciclaggio e associazione a delinquere. Scattata una prima perquisizione, trovati 10.000 euro in contanti, oltre al piede di porco usato per forzare le cassette di sicurezza in Svizzera e due grossi cacciavite. Riteniamo che avesse pianificato molto bene la sua fuga che prevedeva di lasciare immediatamente la Svizzera e trovare un appoggio logistico nella città di Vicenza per trascorrere una notte e poi probabilmente per allontanarsi all'estero e quindi il nostro intervento ha scongiurato questo pericolo. Ieri l'ennesimo blitz della polizia in Campo Marzo, oggi però il parco non sembra essere cambiato nulla. La storia è infinita. Il giorno dopo la maxi operazione della polizia, Campo Marzo non cambia faccia. Resta un ricettacolo di stranieri e nulla facenti che passano le ore bivaccando. Ieri polizia, vigili e unità cinofile con i militari hanno accerchiato il parco. Alcuni nordafricani hanno inforcato la bicicletta allontanandosi e quattro stranieri sono saliti sui pulmini per maggiori accertamenti. Nessun sequestro di stupefacenti ma che Campo Marzo sia il crocevia della droga in città è certificato dalla cronaca di questi anni. Nulla è cambiato, dicevamo. Un blitz non serve se non c'è certezza della pena. Una disavventura è quella vissuta da un ottantenne che era andata a pregare in chiesa. Era nata come tutte le mattine nella chiesa di Araceli in città e di certo non si aspettava ad essere alleggerita di tutto ciò che aveva con sé. Brutta avventura per una donna di 88 anni residente in città che mentre era inginocchiata e concentrata nelle sue preghiere è stata avvicinata da un tizio, un nomade che le ha rubato borsetta con dentro 350 euro, documenti e bancomat. Lei è riuscita a vedere mentre il ladro scappava in sella a una bici ma non è rimasto che denunciare il furto al 113. Ancora un furto, questa volta però in abitazione. Ancora furti in casa, ladri in un'abitazione di via De Pieri in città ed è stato necessario persino l'intervento dei vigili del fuoco perché i ladri avevano estratto il cilindro della serratura impedendo così l'accesso all'appartamento e le due giovani coinquiline. Una volta che i pompieri hanno aperto la porta, dentro si è presentato un copione ormai tristemente noto, tutto a soccuadro, spariti i monili. Spaccio di droga invece è la ragione per cui è finito in manette un ventenne. Camisano, i carabinieri lo tenevano d'occhio e non sbagliavano. In casa nascondeva 400 grammi di marijuana in dosi pronte per essere vendute, bilancini e macina erba. Un 24enne italiano incensurato deve rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, per questo è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari. Durante l'operazione i militari hanno anche identificato due giovani di Torri di Quartesolo segnalati alla questura perché è in possesso di piccole quantità di stupefacente. Ed ora invece vi parliamo di una rivoluzione che interessa da oggi le farmacie di Vicenza. Dovete prenotare una visita o degli esami specialistici? Beh, da oggi, oltre che rivolgersi all'ospedale, al call center telefonico o a internet per chi è più all'avanguardia, i cittadini potranno andare direttamente in farmacia. L'Ulso Ottoberica, infatti, tra le prime aziende sociosanitarie del Veneto ad applicare l'accordo stipulato tra Regione e Federpharma per trasformare le farmacie in un presidio sanitario del territorio. Ci sarà così uno sportello CUP in ogni quartiere e dal primo novembre si comincia dal distretto est. Ed ora invece parliamo del Vicenza Calcio. Per ora Mister Colombo resta al suo posto, ma a preoccupare ancora una volta la situazione della società. Continua la crisi bianco-rossa e su tutti i fronti, societari e sportivi. Se è rientrata la cacciata di Mister Colombo, paventata dopo la sconfitta contro il Sud Tirole e alimentata dalle voci di un ritorno in banchina dell'ex Franco Leda, ancora sotto contratto con il Vicenza, quello che preoccupa di più in questo momento è la scadenza del pagamento della rata annuale dell'IVA alla Ginzea delle Entrate. Situazione che metterebbe la società, che non convoca una riunione da settembre, a rischio fallimento. Si attendono novità nelle prossime ore. Torna questa sera, come sempre, l'appuntamento con Focus. ospiti del nostro direttore Luigi Baccialli saranno Carla De Conti, Ilaria Brunelli, Barbara Pilanna, Marco Della Pietra, Stefano Marrone e Mario Gris. Dategi Vicenza invece per questa sera è davvero tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Rete Veneta. Arrivederci. Le previsioni per domani. Tempo stabile con transito di nubi alti al mattino e presenza di nubi bassi in pianura e nelle valli è alternata qualche schierita nelle ore centrali. Possibile riduzione di visibilità nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature minime in ulteriore calo in pianura, in aumento in montagna. Massime stazionarie o in lieve aumento. Precipitazioni assenti.